Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovissimo video Eccoci qui con un nuovo video e questo come avete visto dal titolo Sarà il video su come avvantaggiarsi sui compiti Allora intanto mi avete chiesto dove trovo la voglia e come trovo la voglia Di fare tutte le cose prima e di avvantaggiarmi Soprattutto su Instagram me lo chiedete Avevo fatto anche un post sulla produttività Quindi se volete andarla a vedere il mio Instagram è qui sotto in descrizione Study with Megan Però ho anche altri profili It's Megan che però tratto di make up Quindi se volete passare anche da quello ovviamente potete farlo tranquillamente Inoltre vi invito a iscrivervi al mio canale Nuovo video ogni sabato alle 14 Sono sicura che non ve lo vorrete perdere Quindi azionate anche la campanellina Non so se sarà qui o qui Comunque azionate la campanellina Allora in questo video appunto vi dirò i miei tucchi Che uso per trovare la voglia e per riuscire a avvantaggiarmi con i compiti Perché appunto come vedete nel video precedente A me non piace per niente fare le cose all'ultimo Io preferisco sapere di riuscire a fare tutte le cose prima Senza dover fare le corse Quindi riuscire a fare tutto prima E non trovarmi all'ultimo con un sacco di cose da fare Parliamo prima un attimo dei compiti Quelli diciamo scritti Gli esercizi, i temi, quelle cose lì Allora io quando me li danno in genere Cerco di farli subito il giorno appena ritorno a casa Sia perché sono fresca di argomento Sia perché appunto Se magari sono A parte a volte sono anche proprio per il giorno dopo Però anche se sono magari per due o tre giorni dopo Io preferisco farli prima Proprio perché sono fresca dell'argomento Una volta fatti So di averli fatti Non ci devo più ripensare Fino a che non arriva da scuola Perché appunto Avendo tante altre cose da fare Sapere di fare degli esercizi Che comunque mi portano via del tempo Magari anche un giorno Che non ho tantissime cose da fare E quindi non avendo tante cose da fare Non avendo niente da perdere Di conseguenza li faccio subito Perché magari giorni dopo invece Ho altre cose da fare di più Magari di quelle che avevo prima E quindi dopo vado a ritrovarmi Con tantissime cose addosso Se invece li faccio subito Magari ho anche una cosa Che porta via solamente 5 minuti Però anche in qualsiasi caso Farli subito è meglio Perché appunto Le avete fatti Le mettete via E chi si è visto si è visto E voi le avete fatti Quindi il consiglio è questo Quando vi danno i compiti iscritti Mi raccomando Fateli il prima possibile Sia che Vabbè ovviamente Se sono per il giorno dopo Per forza Però se magari sono anche Per due o tre giorni dopo Io vi consiglio di farli prima Perché almeno vi togliete Diciamo un piccolo peso Che almeno non vi dovete portare dietro E quindi questo è un grande vantaggio Sia perché appunto Vi ammantaggiate con l'argomento Perché dovendo magari Esercizi in matematica per esempio Sono comunque uno studio Del nuovo argomento Che poi magari sarà in un futuro compito Quindi se voi fate ogni volta gli esercizi Avete già tolto una grande parte Diciamo Dello studio Perché poi comunque In matematica Studiate gli esercizi Perché comunque Poi per matematica Praticamente per studiarla Farete esercizi Dovete imparare formule E facendoli sempre Volta per volta Vi rimangono in mente Le formule I numeri I calcoli E quindi poi capirete Anche i meccanismi Di esercizi Quindi le case in cui Avviate dubbi Potete sempre chiedere al professore Con molto anticipo Rispetto al compito Mi scuso di nuovo Perché la mia voce è raffreddore Ma purtroppo Non posso farci niente Sto registrando il video Il giorno Lo stesso giorno Dell'altra volta Del video scorso Insomma Comunque Altro consiglio Per avvantaggiarsi I compiti Quando ci sono Ora adesso passiamo Diciamo all'ambito Di studio di pagine Quando praticamente Iniziate magari Un nuovo argomento Di una qualsiasi materia Io la prima cosa che faccio Magari è anche proprio Il giorno in cui torno a casa Facciamo una situazione tipo Siamo a scuola E iniziamo un nuovo argomento Di filosofia Un nuovo filosofo E lo spiega La prima volta in classe Ovviamente Potete tornare a casa Magari E rileggervi anche Gli appunti O leggervi appunto Le pagine riguardanti Quell'argomento E quindi anche qua Potete fare una cosa del genere Oppure Almeno una cosa che piace fare È anche andarmi a cercare Magari degli schemini Su internet Cioè Se voi cercate Che non so Il nome del filosofo O schema E andate nelle immagini Trovate spesso Degli schemini carini Che in generale Vi trattano un po' L'argomento Quindi magari Voi potete dare Una letta a quelli E anzi Secondo me Questi sono molto utili Soprattutto anche Alla fine dello studio Perché spesso Gli schemi Collegano molti concetti E così potete vedere Se avete capito I collegamenti Con i vari concetti E le varie cose E magari anche I collegamenti vecchi Quindi secondo me Cercare degli schemini Online Può essere un aiuto Ovviamente Poi non dovrete studiare Da quelli Come vi ho già detto Nel video Del metodo di studio Però Possono essere Diciamo un piccolo aiuto Per appunto Darvi un input Oppure farvi capire A volte vi aiutano Anche a capire Certe cose Che non avete capito O dei collegamenti Con varie cose Appunto Quindi Possono essere Un grande aiuto Ovviamente Non ci dovete studiare Mi raccomando Perché non trattano Tutto l'argomento Ma magari Solo una piccola parte E detto anche Troppo in generale Delle volte Però possono essere Un aiuto Per appunto Capire un po' meglio E farvi un'idea generale Inizialmente Dell'argomento Inoltre appunto Anche leggere Le pagine Magari inerenti Non vi dico Di leggerle Proprio nel dettaglio Perché ovviamente Magari sono tante pagine Nessuna voglia Di leggere 20 pagine In una volta Però magari Guardare i titoli Le parole in eretto Che anche queste Vi fanno Diciamo nel testo Ovviamente ci sono I vari paragrafi Con le varie parole Magari dei glossari Con i significati E eccetera E magari guardare Quelle parole lì Giusto per farmi Un po' un'idea generale Dell'argomento E non arrivare Totalmente Impreparati Magari anche Quando siete in classe La professoressa Spiega un concetto Voi riuscite Diciamo nella vostra mente A ricordarvi un pochino Magari che l'avete visto Sul libro E magari andarla a cercare E fare riferimento Anche al libro Mentre la professoressa O il professore spiega E questo secondo me È molto utile Perché appunto Vi aiuta A concentrarvi E vi aiuta anche Diciamo A avere un primo approccio All'argomento Senza dovervi ritrovare Magari a studiare Tutto un argomento Nuovo Di cui avete solo Sentito parlare in classe Ma almeno così L'avete già fatto Un pochino Anche voi da soli Inoltre un altro consiglio È anche quello Di magari Se lo sapete Di avere un pochino Di tempo Questo soprattutto Per magari Gli inizi Oppure quando ci sono Quei periodi Che diciamo Ci sono un pochino Meno cose da fare Perché una volta Che tutti hanno fatto Le verifiche C'è un momento In cui praticamente Tutti spiegano E basta In questo periodo Magari Un grande consiglio Che vi do Può sembrare banale Però appunto È questo che Anche fa abbastanza La differenza Anche sempre Per il fatto Di non dover Far tutto all'ultimo Se magari Iniziate un nuovo capitolo O un nuovo qualcosa Magari iniziate Piano piano A fare magari Desi schemi O a scrivere O comunque Già un pochino A studiarle Poi se fate schemi Oppure no Questo dipende a voi Però magari già A leggervi le pagine Approfonditamente E dargli già Un inizio di studio Fate anche a tratti Cioè La professoressa Ha spiegato questa parte Io faccio questa parte E così via Oppure comunque Se siete anche un po' avanti Però Anche in vista Di una futura verifica O di una futura interrogazione Voi sapete appunto Che avrete Una verifica O un'interrogazione Su un determinato argomento Anche in vista di ciò Riuscire a fare Un pochino prima Di sapere Anche magari Di avere il compito Oppure se lo sapete Già anche meglio Noi per esempio Ci fanno tutto Il piano delle verifiche Quindi lo sappiamo già Tipo a gennaio Sappiamo già Che verifica avremo A maggio Per esempio Però Sapere anche Di avere una verifica In un determinato tempo Sapete già Anche quante pagine sono Quindi ritorno Un po' anche Il discorso Del video precedente Sapendo quanti giorni Avete a disposizione E sapendo Quanti argomenti O quali argomenti Ci saranno Nel compito Voi vi fate un'idea Di tutte le pagine Che dovete studiare Quindi magari Iniziate un pochino Prima a fare certe cose Perché ovviamente Se lo studiate È abbastanza scontato Che vi rimanga in mente Soprattutto perché Appunto siete state Attenti in classe Magari avete preso appunti E quindi Iniziare a studiarvi Le cose un pochino prima Può aiutare Soprattutto per non ritrovarsi Con tutte le 80 pagine Da studiare Il giorno prima O qualche giorno prima Quindi anche qui Magari Ma non tanto Due o tre pagine Così al giorno Che Non sono tante Però Piano piano Messe tutte insieme Poi arriveranno a fare Tutto il complesso Di quello che dovete studiare E voi Un poco alla volta Avete fatto tutto Senza ritrovarvi appunto A fare ogni cosa All'ultimo Quindi Questi erano i miei consigli Per avvantaggiarvi Sui compiti E sono le cose Che io in generale Faccio Quindi spero che anche Questa volta Vi possono essere stati di aiuto Se avete qualsiasi dubbio Domanda Spero di essere stata Abbastanza chiara Però Se avete qualsiasi dubbio O qualsiasi domanda O volete raccontarmi Voi come vi avvantaggiate O se non vi avvantaggiate Questo video vi ha aiutato a farlo Spero che E spero di esserci riuscita Comunque In qualsiasi caso Commentate qua sotto Io cercherò di rispondervi Il prima possibile Qualsiasi domanda Qualsiasi dubbio E raccontatemi appunto Le vostre esperienze Io leggo sempre tutti i commenti Come vedete Vi metto sempre un cuoricino Oppure se volete anche Iscrivermi su Instagram Potete farlo tranquillamente Il mio Instagram Study with Megan È qui sotto Come vi ho già detto Mettete like al video Commentate mi raccomando E iscrivetevi Azionate la campanellina Per non perdervi il prossimo video E noi ci vediamo In un prossimo video Ciao